No, gli ho lasciato un biglietto Eh, però, ho fatto, gli hanno detto La Cote, la Cote, la Cote la posso lasciare o ti serve ancora? No, no, abbiamo finito di costruire No, sei svenuto Sì Tipo due alberi Ok, si sento La destra tipo due o tre alberi Posizione uno arrivo anch'io È quasi Bella Niente, non finirà bene Uno morto Madonna, godo, godo, ero qua, godo Sta arrivando Un colpo un palco L'abbiamo mandato anche on Forse la raga, a sinistra, a sinistra nostra 3,45 Dove? Preso, beccato In mezzo al cespuglio Ma che cespuglio? Ehm, 3,45 Capito dove? Qui, za Ucciso 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 E' la vostra E' la vostra, la vostra a sinistra raga Com'è a sinistra? No, 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 non lo vedo più Non lo vedo, non lo vedo a sinistra E' al centro Tipo dietro Le staccionate Al muretto quello che è Eccolo, eccolo Date informazioni raga Fuori, fuori Fuori Tenetelo là Tielo là, tielo là Za, non lo fa pushà Lo sto pushando Dov'era killer? L'ho preso raga, l'ho preso Dove è andato? Ok Sta salendo No, 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 è sempre là Vedi che sta giù meta E' andato giù E' morto Ma quale dettaglio? Oh, e tira Non so da dove Ok Li vedo qui davanti a me Qua Una era sul cadavere Poi è andato via Ah, li vedo Dall'altro è qua Poco più avanti Del marker Non ci è sfugliato Vado, è vero Tirato giù uno Ok, bravissimo Arrivo L'altro è a Nord-Ovest Non si darà qui dietro Qua Questa che ne sta guardando verso di me Ok Ok Giro a tu di spalle se tu vai Ce l'ho qua eh Dov'è? Qui davanti a me Questa è un po' E' un po' no 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 hello dietro hello man someone here you can surrender put the weapon down and get out hands up si si fa il simpatico man ecco arriva da sinistra ok granata infinata oh gente davanti 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 preso l'ho mandato ancora l'ho fatto porto bello un altro un altro aspetta sempre di fronte mi sa eh si dove dove ma li amazzi anche o di solito no l'ho 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 colpito non non so dov'è è sotto l'albero sdraiato fatto tratto a destra ce l'ho ce l'ho ce l'ho da dietro l'ho colpito prendo sale in torre dimmi se sale in torre lo butto giù no l'ho 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 ok lo vedo uno è è ชato aspetta l'ho dove? adesso è l'ho non cito, non cito, stai calmo uno di fianco a noi fermo ci l'ho, ci l'ho, è frescino tolto sono in 3 ok, lo vedo bella varmo ancora il coglionazzo era sempre quello quello che ho già ammazzato prima che stavo tornando si, si stava ritirando sulla roba e l'altro mi tira ok, ce n'è sempre un altro eh, ma quel cazzo che mi faccio tirare è scemo dov'è? è sempre lì, palazzo in costruzione ok, lo vedo, lo vedo aspetta se la fai a tirarlo giù bella lo vedi? aspetta, gli tiro una granata morto era lui? si, è lui ok, no, c'è un altro no, sono zombie eccolo fatto, fatto aspetta oh, uno in fondo si, l'ho visto aspetta, l'aspetto oh, mi spara un altro sono morto ma sempre così trovi a destra vai a destra se mi sciucci la kill no, no, la WAP va eccolo oh, ho preso? non l'hai ucciso? si non l'hai ucciso è sminuto bravo bene 3.43 è buono l'ho vista l'ho vista in diretta è stato bellissimo no, minchia, comunque a ste distanze ma sei in casa, no? no, son fuori, cazzo ma pensa o tu tu sono c'è che devo disinstallare di nuovo tutte le mod e ristallarle ancora? è come l'ultima volta, ogni tanto come se mi scattasse ogni tanto faccio una pulita tutto non è che faccio male giallo non vedo nulla eh? è giallo? il capanno giallo pulito, torre sopra pulita stricte 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O chissà cosa. Io ho trovato un SRS A2. Che roba hai? C'è il caricatore. Spara i 338 nella Pua Magnum. Sempre sniper. Beh, sembra simpatico. A questo punto ti posso lasciare il caricatore se lo usi. No, no, per capire che roba erano. Quelli nuovi che hanno messo. Però la Pua Magnum è buona. Un cerco nuovo. Verranno per forza, dai, di qua. Per forza. Per forza di cosi. Di qua non era lottato niente. Se sono partiti da di là la vengono a fare, dai. O erano separati, si sono sentiti i spari, qualcuno se l'è data. O erano insieme e... Anche vero. E c'è del lutto anche sopra la prisula. Grazie. 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 c'è scritto che ogni tanto mi compare davanti quella io la leverai proprio mi sta troppo sulle mani da fastidio troppo quella leverai o dare la possibilità di spostarla magari allora io su dove sta il momento non sto vedendo nulla e io sto guardando guardando più che altro verso ovest nulla anche di là grazie a tutti noi lo zombie l'abbiamo ucciso già dentro giusto? eravamo usato dentro qua così fuori non c'è proprio niente che ti faccia capire che c'è qualcuno no 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 assolutamente che gli zombie sono tutti calmi ecco io l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto si si a sud si sale sulla parabola dimmelo lo ti reangi subito però secondo me non era quello che sparava la A12 mi sa che ha ammazzato qualcuno o qualcuno ha ammazzato lui devo andare da parte opposta tua vediamo vedo se passa da dietro se vuoi sì tanto il lato destro lo riesci a guardare anche tu ok ok un zombie sta correndo là in fondo est sud est da diciamo sotto parabola sotto antenna grazie a tutti grazie a tutti ok un altro player che arriva sempre da lì sud ovest vedi no non lo vedo sta andando sempre là vediamo se si menano altrimenti sono due l'hai tirato tu? no no sto tirato da qui vicino però ok non sono insieme grazie a tutti come funziona se metti caso al tiro posso tirare o lascio perde tiro giù ci uccidi sì che sei sicuro già distanza sentire impossibile no non lo faccio ovvio anche se con le m 200 sempre vuole di sparare perché non capisco come anche l'altra sera non lo beccavo cioè taratura perfetta 100 200 uno si è allontanato dietro il garagino ok quello piccolo che c'è a 195 si si è al centro lungo strada esatto hai il visore si intanto buttano occhi anche dietro che dalla collina ci vedono sale qualcuno per quel che si nota non c'è nessuno forza qui sotto non lo vedo là non lo vedo là vedi no dove cazzo è arrivato questo qua scusami sta andato oltre anche l'altro destra che c'è il coso si 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 ma sto spostando andietro un patto apposto ok l'ho visto è giù ai bagni ma perché cazzo è arrivato questo qua ma potete rimanere anche di la controlla eh questo angolo qua riesco a guardare e oltre diversi bagni eccolo lo vedo c'è un albero davanti quanto sarà la tenda del capitano? 150 dentro la tenda dentro la tenda uscita un po' e dentro dove abbiamo chiuso lo zombie ecco l'ho ripassato se viene verso di qua a farlo arrivare sono curioso di capire però da dove cazzo è passato quello lì o se ha rilogato qua sotto perché è uscito da è uscito dalla presa tu puoi essere grazie oh leggi un attimo un discord il discord il discord ando verso di là no posso tirare dietro gli alberi scomparso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando sei qui vicino, dimmelo, che ho tolto il tuo marker. So tutto, so tutto. No, dicono, in teoria può essere che non ti vedo neanche. No, ok. No, non ti vedo neanche. No, non ti vedo neanche. Uno è sempre sud, est, sud. Ho sparato di nuovo. Io continuo a controllare su se arriva. Si rientro, la? Si rientro, la? Andare a distanza è più o meno i bunker o le... ho i siti dei missili dal lato tuo si vedono i scessetti? no no cioè vedi la struttura ma non vedi né porta né niente bello cazzo era questo sembrava sembrava molto più vicino brava sei dentro? sono dentro perfetto si non ti vedo io non ho il tuo mark si io i vostri si no 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 io solo il tuo non c'ho già si vicino a me eccolo sta andando dietro ovest nord ovest sta salendo ok vero lo vedo si si l'ho visto l'ho visto ok c'è uno zombie dietro si non potevo tirare il buio no 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 certo per dirti più o meno da però con l'altro sicuro eh secondo me sono quelli che si sono sparati là in fondo invece quindi qua in fondo in terra non c'è più nessuno non c'è più nessuno quindi qua in fondo in terra non c'è più nessuno ok 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 adesso Ok, bene. C'è gente al giallo eh, occhio Rush. Penso che ieri lo stavo dicendo, sono due player. Eccoli. Eccolo. O sono insieme e sparano gli zombie o si stavano tirando. Ma a quel punto non hanno le mani. Dietro non arriva nessuno. Tutti questi davanti. Non si sa. Ok. Nel tragitto ho trovato una tenda. Sì. L'abbiamo vista appena abbiamo loggato. Dove sono loggato? Sì è vuota, è vuota. Eccolo, eccolo, eccolo. Velo? Di qua, sud-est, sud-ovest. Sei tu che hai sparato? No, loro due, loro due. Sparano tra di loro. Sparano tra di loro. Uno è dentro hangar. Ok. Uno è dentro hangar. L'altro... ci proviamo sta botta da qua su ora. Aspetta, eccoli. Sì, sì, lo so, lo so. Era fermo. Cazzo, devi stare prima l'altro. Quello era mezzo bambi. È scappato quello con le armi grosse, cazzo. Secondo me non si è neanche sentito. Era sempre lì sopra? È scappato a destra. A ovest. Adesso abbiamo gli zombie qua, capito sicuramente. Sì, sì, sì. E tra me e te, lui. Oh, l'ho visto, l'ho visto, è lontanissimo. È a sud-ovest. In mezzo alla prateria. Ah, dove sto ora io? No, no, no. Sicuramente no. Esatto, di fronte a noi, guarda. Dove sto guardando io. Ok, ok. In mezzo al campo. C'è un cazzo buono. Ecco, l'ho visto, l'ho attraversata adesso. Vedo, vedo, vedo. Il capito è scordinato. Ragazzi, non riesco ad entrare. Eh, sì, sali... Vai verso sud. Che botta. M24, questa. M24. M24. Ha sparato lui? Sì. Andava verso le tende, sto tizio. Guarda tanto che tu stai qua, io vado giù. il cuore. dove avevo il campo base sul server slave in fondo attisi dopo la parabola oddio nel boschetto a fianco alla parabola si, bravo, venendo verso di noi ricordi che c'era tutta la strada sulla sinistra ce l'avevi esatto, quindi tu lo troverai alla tua destra adesso io ora sto al poligono ok l'abbiamo visto scollinare ma non sappiamo se è andato a destra o a sinistra se è rifatto il giro indietro o meno esatto l'abbiamo visto andare a sinistra ma se poi lui è scollinato e sta tornando indietro quello non lo vedremo mai io non vedo ancora niente mi ficcono il bosco da qua vedo scuola dimmi tu quando è abbastanza vicino per poterlo riattivare sto a 600 metri se vuoi puoi riattivare tranquillo ok lo vedo oh ragazzi non sto riuscendo a vedere nulla mi stanno bruciando gli occhi oggi porca puttana e non fare un cazzo tutto il giorno eh? e non fare un cazzo tutto il giorno questo è? si forza questi problemi oltre le pippe mi chiamò però pensandoci quella è una delle cazzate più atomiche che è stata creata che cosa quella è di non fare un cazzo? giusto sparano ok lì è dove era il tizio? mi vedete? no stiamo guardando da l'altra parte fedele cast tu quanta roba c'hai addosso che eventualmente vai a luttare il tizio ora io sono vuoto c'ho solo l'arma vai al bunker lì vicino ai silos ok lo sparo ero al tabato è arrivato dalle tende? eh più o meno in zona dove era il tizio da scuola da scuola si da scuola ah cazzo è ritornato lì cioè dove un po' più avanti lì dove l'abbiamo visto l'ultimo mi vedete? si a destra del bunker lo so lo so l'ho visto zombie da me assista del bunker non a destra si 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 dipende come guardi il bunker se di spalle o davanti chi va di black c'è i tac M300 mi stava venendo il vomito a sentire queste armi eh la Roma non ha capito mi stava venendo il vomito a sentire queste armi perché? basta non le voglio più vuoto completamente poi mi lutto a sta zona funzionanti sono? lascio 12 funzionante chi va di funzionante il cedac funzionante questo è da giallo si palazzo giallo sbaglio? no no cazzero sto curioso di sapere che cazzo sta sparando le scimmie beh raga io vengo da voi a sto punto eravate poi questi no no come no? che zona? siamo sempre là sempre là era molto più vicino però raga no era molto più grosso al calibro ah ok è una piccola differenza adesso non ti rimango qua una volta che mi muovo mi perde i fotogrammi un'altra volta babo 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 boschetto nulla? silenzio silenzio no è il vento non mettere pressione psicologica no 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 io ho detto semplicemente silenzio per capire quindi tranquilli ho 155 colpi di cui ne sparerò solo 10 perché morirò subito bene 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 quindi stavano affedato da di loro questi ma non ho capito ma mi sembra strano che usano quei calibri lì per gli zombie sinceramente erano due colpi diversi poi eh o c'ha le pezze quindi non ha colpi stai usando quello che trova ma dubito fortemente io so esattamente il bunker dove avete ucciso quello se si avvicina il bunker mi alzo e gli tiro due colpi a cavolo in modo che lui venga dentro pensando a me e non a te tu però immobile sì sì da prima si è buttato dentro la casetta guarda ben fuori grazie a tutti 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 è fatto stava virando verso il bunker non so che io non ho capito che collina dicevi ovviamente ah è una scena di collina ah ma perché sono dalla parte opposta alla tua quindi vedo solo quel pezzo là di collina era quello vestito in nero? eh no li sono scoperto l'hai capito ora dov'è? se no ti ci metto il marker no vabbè metti il marker più o meno ho capito ma tanto non di preciso no ovvio meno va a me quindi eh tu dove sei al bunker? eh sì allora sì allora ho fatto bene anche a sparare questo dovrebbe essere quello con quel calibro grosso che sparava lì al giallo credo 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 che quando spari con l'M200 insomma questo è sud un po' di ansia te la metti cioè tu cioè spari non arriva mai sembra al colpo l'M200 e l'M300 tutto da me che ha? mamma mia stavano di scendato una a lutta erano zombie che hai detto? che hai detto? non ho capito non lo so mi hai fatto gare addosso no hai detto l'M200 e l'altro che ansia non conviene che Ratchet vai a luttarlo e vieni qua da noi eh sì eh sì 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 vado così non riprendono le armi se c'è un zombie da mi tocca farlo eh aspetta che te lo sparo io sono silenziato madonna fa più casino che altro questa dai eri tu? sì ero io vado? ora non ero io eh ah c'è un altro qua giù Ratchet torna indietro torna indietro è giù ai bagni è Cessi è Cessi è quello vestito di nero vado alla statua vado alla statua sono in due sono in due sono in due sono in due ai bagni no 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 non è entrato a noi non è entrato a noi sta arrivando sta arrivando raga non so dove sono i bagni è Cessi è verso giallo sono in tre verso giallo chi è che ha sparato voi? io io ok ha fatto bene ci ne sono altri due un ghilli e un altro normale non li vedo eh ok vedo l'altro si sta allargando a destra e il ghilli sta andando a sinistra sulla montagnetta sono un quattro raga due a destra e due a sinistra chi era questo? no no è il tizio che è qui sotto di noi uno sotto di noi uno sulla montagnetta dove ho fatto il tipo e due a destra eccolo quello sotto di voi c'è un altro che sta venendo sempre sotto di noi se tu guardi la porta Ratchet qui dovresti spostarti ricapitolando due sotto di noi ovest 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 lo vedo ovest raga zombie da me uno dovrebbe essere a destra ma non lo vedo più hanno aperto da noi si 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 già guardi la porta varmo non metterti lì non metterti lì non ho abbastanza colpi ok passa arrivo anche due si esatto eccolo fatto uno fatto uno chiudi porta chiudi porta eccolo un altro fatto 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 chiudi porta giù 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 arriva un altro arriva un altro fatto bella bella ragazzi bella bella raccetti ah lo vedo dalla collina lo vedo devo stare giù perché lui mi ha visto mi ha fatto malissimo ho chiuso porta grazie sento passi siete voi si si sto strisciando mi ha fatto malissimo raga quello sopra eh lo so già non l'avevo visto hai fatto bene hai fatto bene però dico adesso mi serve un attimo perché vai 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 fai tu sei l'unico che ha un fucile che uccide quello là in fondo eh varmo raga silenzio per favore non senti passi qua giù mi trema tutto bo 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 rilassa 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 sei sotto di noi tu si si sei dentro quindi sono dentro ottimo perfetto controllo se hanno un grimaldello aveva il pda questo già tu controlli Anche se hanno un fucile che uccide, va. Sì. Chi si muove? Io, io, strisciolo. E varmo, e varmo, stai tranquillo. Sopra siamo solo noi. Non hanno armi che uccidono. Erano quattro, ne abbiamo fatti tre. Tre. Quello se è fuori, vuol se ne sta andando. Cioè, hanno un Givar, MK3 Green e Remington ACR. A me a volte non va in mira comunque, perché me lo sarei fatto prima. Non mi va in mira. Eh, ogni tanto infatti devi mirà. Purtroppo sì. Sono in sotto. Vediamo che a me adesso. Pocchi di finestra, relax. Sì, sì, sto proprio di fronte alla porta. Almeno sto coperto. Sto prendendo tutto ciò. Già, se vuoi tirarti sulla roba dei tizi. Non so se ti sei rifullato. Allora, facendo i conti, due fatti, tre. Ok, quello è il quarto. Io quattro non avevo visti. È la ghilli verde, la ghilli verde. Sì, sì, lì sopra. Era a ovest prima. Anche se si è piccato in un albero, è difficile vederlo. Palestinesi. E se si sta... Magari se ne sta andando dalla parte. No, magari si sta alzando, eh, per tirarci. Mettete sotto il muro. È per quello che non sono andato ai corti, subito. Sto cercando di guardare, ma non vedo nulla. Zamorfina? No. Epinefrina neanche. Per fare cosa? Per ripigarti? Sì. Ah, niente. Per questo c'è una sacca di sangue, ma non mi dice che è sangue. No, 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 no. No, ma il sangue non ti serve se non ti manca sangue. Sacca di soluzione salina? Sì. Un po' aiutati. C'è un kit per flebo? Kit per flebo... Fabrica, sacca di soluzione salina 4. Quella c'era sto gilli verde. Non lo vedo, ma non sto guardando l'albero. Eh, manco io. Perché poi il bello è che se zoomi, si vede di più la foresta. Non si vede. Dove mi chiamano a me? Siamo a terra. Me la faccio? No, qua non posso. Mi stendo qua. Mi ha danneggiato la giacca, sto stronzo. Hai aperto tu, sì? Sì, 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 sì. Sto controllando un attimo. Tanto la giacca è qui su di sopra, una. Sì, 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 ma non è un problema. Basta che me lo sono fatto, sti cazzi. Buona, raga, buona. Buona, se riusciamo a vivere. Avere, questo ci fa tutti a tre. No, sì, giusto. Difficile. Ma non è impossibile, ricordo, eh. Eh. Molto è difficile, eh. Zero. Killpress. Paul Panzer. Si chiamavano? Mm. Li conosciamo? No. Adesso sì, però. O meglio, loro conoscono noi. Mm. Mm. Ehm, io tolgo la roba dai corpi, che dici? Ah, sì, sì. Sono io sotto, eh. Allora, no, non andare in ansia. No, è per avvisare. Ti le vuoi? Io, io. Eh, se è qui, così si. Ma si vuole mica di quella parabola, eh. Redcario, ovviamente, mi ha amicciato. Madonna, che ansi che mi fa venire. Mi ha detto così. Ce l'ho proprio dietro, io. No, no, a posto, l'ho controllata. Non riesco a luttarli. Il visore vi serve, raga? No. No, 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 mettilo. Mettilo, mettilo. No, no, io ce l'ho, ce l'ho. Allora, portalo dietro. Sì, sì, lo salito, lo salito, lo salito. L'ho tirato su. No, 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 no. Questo è snuff o è K40C? Io sto premendo tutto ciò che ci può interessare. Quindi niente fucili che uccidano loro? No. La pistola. La pistola è l'unica roba che uccide. Chiara? Voi? Io. Qualcuno è caduto. Guarda, tu. Sì. Riesci a venire a chiedere la porta su di sopra, Rache? Sì. Ora di alzarmi. E' spazio dentro queste casse, Zah? No. Niente? Neanche un po' non ho più presente, neanche un pelino. Serio? Ah, sì. Dai. E' quello che mi sta generando ansia. E non avere spazio. La Remington ACR lo togliamo. Silenziatore. E l'altro era un... Era poco a poco. Il Givar. Il Givar. Ok, Zah. Vuoi il caricatore? No, dovrebbe essere già carico. Questo? Sì, sì. Già carico. Mi sono stati gentili, si ne ha portati anche carichi. Non mi ha detto, no? C'è un tipo che non ci ha capito più niente. Gli sparavo io attraverso la porta. Varmo da dietro, questo qua non sapeva più già di girarsi. Ah, già, tu gli stavi sparando, certo. Irri sempre verso l'alto. Ancora faceva vedere così? Sì, sì. Eh no, però saltavano i pezzi di porta, quindi... Quindi l'hai visto quello, insomma, anche se non... Te l'ho chiamato in tempo, ok. Beh, se usciva dalla porta, lo... Da dietro la porta lo distruggevo. Eh, ma è andata bene che lui si è distratto con te, no? Eh, ma io avevo paura, infatti, che avesse visto te e stia sparando a te. Invece poi ho visto che mi ha tirato un colpo a me. E lì ha detto a Zampo, ok, allora ti faccio il colo strozzo. No, no, stavo uscendo poi all'ammazzato Varmo, non volevo... Perché lui era sdraiato tutto a sinistra, quindi... Allora... Guarda che differenza che ha fatto la Salina. Ratchet aveva meno vita di me, l'ha già tutta riparata. Sì, sì, fa una differenza assurda. Bestiale la Salina. Assurdo, assurdo. Ratchet, quanti colpi hai? 136. Non spiegati, sono... Ok, ok. Oh, oizu, buonasera. No, no, io sono il cespuglio. Sono il cespuglio. Che cammina. È buono perché adesso probabilmente torneranno i pistolettari, quindi... Sì, a meno che non la passi vicino. Però è il ghillie che non... È, il ghillie becca male perché bisogna stare attenti perché lui è... Aveva una ghillie chiara, eh. Verde, verde, sì. Verde e chiaro. Verde e chiaro. Però... Eh, però si è perso su quegli alberi là. A meno che non è stato aspettando i pistolettari che torna. Eh, beh, sicuro. Quando si distraggono lui si mette in mira. Sicuro. Occhio delle finestre e... Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Sto pienendo di miglia sta roba. Così me ne vado. Se sentiamo che io passi volo giù ad aiutare Ratchet, ti va? Sì, sì. Io sto più di voi ancora. Tu resti qua che... C'era ancora il tizio da luttare lassù. Eh no, più che altro se vedi il tipo là su, appunto. Poi la situazione non è più molto amichevole, se vedete il tizio. Allora, vedete, però che tra il tizio e quelli dentro, si tornano tra i pistolettari, mi preoccupano, i più pistolettari. Quello è quando sei in un corridoio, insomma. Ci sta sempre, eh? Il cazzo di pistole sono... La botta di culo ci sta, eh. Torno giù. Non è più stelettato, te ne arrivano due e ti fanno svenire. Che poi non ho capito il terzo da dove ha crossato, perché non l'ho proprio visto. Il terzo ha crossato da... Da dietro, da... Dalla torretta di metallo. Ah. Ok. Ha tagliato diagonale lì, però poi ho visto che veniva davanti anche lui, come rumore. No, no, ma quello l'avevo visto. Non l'ho sentito, non l'ho visto. Bu, chiacchia come il formiglio. Due hanno tagliato verso di noi. Uno a destra è andato e uno a sinistra. Sì. Poi quello di destra ha tagliato in mezzo insieme all'altro e se ne ha allargato ancora di più un altro a destra. Due hanno pusciato dentro, sopra. Due hanno pusciato e sono sdraiati di dietro. Il terzo che è arrivato dopo è sdraiato un pelo più giù. Un pelo molto più giù. C'è il ghil. Questa la tiro su. Troppi alberi, no, anche volendo. Troppi alberi. Troppi alberi. stiamo cercando uno che ha scappato dei quattro che erano io non vedo veramente un cavolo no niente non lo vedo neanche ma secondo me è salito parecchio o sta girando non lo so ho fatto una kill su tarkov poi si è morto dopo mi è arrivato uno da dietro del cane fa diventare un nea mentale però intanto me ne sono portato via uno in live in live occhio si no ma tanto per polvere voglio parlare comunque nei punti dove ci può tirare io non lo sto vedendo eh ma no neanche io ma no ma guarda che è difficile che lui ci possa tirare a qualche punto eh mettiti in prima no 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 dico si no da dove potrebbe aspettare il tiro non lo sto vedendo io me lo aspettavo tipo da sta zona qua esatto esatto non lo sto vedendo lì ho tutto là a sinistra ma non zero mi sposto vado dall'altra parte mi sposto vado da preso tutto dai corpi parma questa giusta faccia e sto guardando con lungo verso sta zona qua possiamo stare un attimo tranquilli e vengono a rompere con i miei mani ma guarda qua questo 3 contro 4 penso che non l'abbiano digerito benissimo credo anch'io non so se tu è il nome qua quelli sotto mi ha creato un zombie da fermo l'ho sparato e ho ucciso i zombie non mi hanno sentito minimamente ma il tuo sparo si è sentito proprio veramente pochissimo si ma veramente poco 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 il pick up mi è silenziato così poco te lo giuro te lo giuro ti ho sentito malapena io senti pochissimo il pick up ti ho veramente sentito malapena non ti sto prendendo in giro è bello così allora il sì era grande è bello è bello è bello è bello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.